Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Il ritorno sulle scene musicali di Gerardina Trovato ha emozionato sia lei che il suo pubblico affezionato. Dopo un lungo periodo di difficoltà, l'artista siciliana ha deciso di tornare a esibirsi, regalando ai suoi fan un momento di grande speranza per il suo futuro. Il gesto di Gerardina Trovato di riabbracciare la musica e i suoi sostenitori è stato molto applaudito. Dopo un'assenza prolungata dalle scene, l'artista è tornata a calcare i palchi, cantando le sue canzoni e regalando emozioni al pubblico presente ad un festival locale, come dimostrato da un video su TikTok. Nonostante gli anni bui e i problemi affrontati, come quelli economici che l'hanno portata allo sfratto e l'esclusione dal Festival di Sanremo nel 2020, Gerardina Trovato ha trovato la forza di risollevarsi e tornare alla musica. La sua lotta contro la depressione e le difficoltà professionali è stata un duro percorso, ma il sostegno e l'affetto del suo pubblico l'hanno spinta a non arrendersi. Il ritorno di Gerardina Trovato alla musica rappresenta un segno di rinascita e di determinazione da parte dell'artista siciliana. Il suo coraggio nel superare le avversità e nel tornare a esibirsi è un esempio di forza e resilienza per tutti coloro che ammirano il suo talento e la sua passione.